Prode e riciclaggio a Pesaro, otto denunce e due milioni sequestrati, alluvione politica polemica sui ristori alle imprese, marche protagoniste all'apertura del TTG di Rimini, di padre in figlia vent'anni di Ranocchi Software, 250 motociclisti pronti al secondo rally delle marche. Buona serata, benvenuti al nostro televisore. Oggi è mercoledì 12 ottobre, apriamo questa edizione parlando di Cronaca. Otto denunce e due milioni di euro sequestrati, sono questi infatti i numeri di un'operazione a contrasto di frode fiscale e riciclaggio di denaro, portata a compimento dalla Guardia di Finanza di Pesaro. Otto persone denunciate e due milioni di euro sequestrati. Queste le cifre dell'attività di Polizia Giudiziaria, denominata Cassaforte di Famiglia, che ha portato la Guardia di Finanza di Pesaro ad indagare per frode fiscale e riciclaggio due coniugi pesaresi imprenditori, tre commercialisti anconetani e uno pesarese, oltre a un consulente pesarese ed uno romano. Ai due coniugi, infatti, erano riconducibili sei fascicoli fallimentari su società operanti in diversi generi, soprattutto quelli del settore alimentare e quello immobiliare. I coniugi, in concorso con altri soggetti, avevano distratto 4 milioni di euro dalle sei società in fallimento. Investigazioni che risalgono addirittura dieci anni fa con movimentazioni finanziarie operate in favore di una società pesarese riconducibile ai coniugi, ma di fatto amministrata da prestanomi di Malta e San Marino. Un'indagine che ha avuto il suo culmine con l'arresto e la custodia in carcere del Dominus indagato con sequestro preventivo di 700 mila euro comprensivi di tre immobili. Indagini che hanno poi portato a scoperchiare anche altre condotte penalmente rilevanti, formalizzatisi nei sequestri prima di altri 700 mila euro equivalente al reato di riciclaggio e ad altri 500 mila euro divisi fra fabbricati, conti bancari e quote societarie. Ed ora passiamo alla politica perché fanno discutere i provvedimenti finora adottati dalla regione a sostegno della ripartenza dall'alluvione. A tal proposito il consigliere regionale Andrea Biancani sottolinea ai nostri microfoni il disappunto per un'altra bocciatura a ristori a fondo perduto per le imprese. Devo dire che per l'ennesima volta abbiamo presentato un documento dove chiedevamo ristori, quindi risorse a fondo perduto per le persone, quindi per le famiglie, i cittadini e anche per le piccole e medie imprese. Devo dire che questa proposta è stata respinta e secondo me è stato un grave errore anche perché i cittadini di questo territorio hanno bisogno di risposte concrete ma soprattutto in tempi rapidi. Siamo in un momento che è particolare, il nuovo governo si deve anche insediare, se noi aspettiamo che arrivino le risorse realmente aspetteremo probabilmente altre settimane se va bene. Non è pensabile richiedere ai cittadini di anticipare le risorse che poi gli vengono ridati e poi speriamo. Io penso che la regione che è l'ente più vicino in questo caso doveva anticipare queste risorse, mettere a disposizione delle famiglie e delle imprese e anche perché ricordo che parliamo di territori fragili dove anche le attività economiche fanno difficoltà, comunque facevano difficoltà prima, ricordiamo che veniamo dal post-covid, ci sono l'aumento delle bollette. Pensare che oggi la regione debba sostenere tutte queste realtà attraverso un sostegno al credito, quindi sostegno a nuovi mutui, penso che sia impensabile. Era giusto prevedere risorse a fondo perduto e riprevederle in tempi rapidi, quindi abbiamo chiesto per l'ennesima volta di sostegno a fondo perduto, purtroppo è stato detto no. Ed ora cambiamo argomento perché si è aperto oggi il TTG di Rimini, la più importante fiera del turismo nazionale, alla quale fa bella mostra di sé la regione Marche. Allora vediamo questo servizio. Raccontiamo numeri importanti per la stagione in corso, dove addirittura abbiamo superato la stagione 2019, nonostante i primi mesi del 2022 sono stati ancora mesi difficili condizionati dalla pandemia. Certamente c'è tanto da fare perché il momento che attraversiamo è un momento particolare che ci fa lavorare in emergenza, lavorare in emergenza prima per la pandemia, oggi per la crisi ucraino-russa con le conseguenze che tutti noi registriamo nella quotidianità, nel caro energia, nel costo delle materie prime, quindi un'influenza diretta anche nelle scelte dei cittadini e dei grandi flussi di turisti. Però questo non ci deve far paura, consapevoli che questo momento passerà, dobbiamo continuare a spingere sulla promozione e soprattutto su progetti che riescano a valorizzare l'offerta etereogenea che la nostra regione può offrire. Il turismo è un lavoro che ho iniziato io e vorrei portarlo avanti, quindi credo che sia importante dare anche continuità. Poi comunque una giunta deve lavorare in squadra, deve essere in grado di mettere in campo con le relazioni una strategia, una sinergia comune, però è chiaro che sul turismo c'è stato tanto lavoro fatto in questi anni e vorrò ottenere io i redini di questa delega. Con la regione siamo totalmente coesi in un progetto nuovo di sviluppo utilizzando l'ATIM, la nuova agenzia che il Presidente Acquaroli ha messo in campo. Dovremo essere attenti, dovremo trovare anche dei finanziamenti adatti per far sì che le strutture ricettive restino in piedi con tutti questi aumenti dei costi energetici perché la grande difficoltà per gli operatori dell'accoglienza come della ristorazione, la crisi energetica pesa fortemente. Noi abbiamo messo in campo delle piccole risorse insieme alla regione che ne ha messe altrettante proprio per sostenere questa economia del turismo. Confido pienamente che l'agenzia ATIM possa essere quel canale importante di coesione, di progettazione, di inclusione fra tutte le associazioni di categoria e le istituzioni su un progetto grande per le marche. Siamo una bellissima regione, mare, montagna, collina, parchi, teatri, musei, storia, enogastronomia, prodotti tipici, non abbiamo niente da invidiare a nessuno. La Fiera di Rimi è un appuntamento importante per il turismo internazionale, anzi, devo dire che nel corso degli anni è diventato l'evento più importante a livello nazionale. Noi siamo presenti nell'area della regione Marche come Conf Turismo Pesaro Urbino per presentare i nostri nuovi prodotti turistici che sono l'itinerario della Fede e l'itinerario della Corte del Duca Federico ricordando che questo è l'anno dei 600 anni dalla nascita di Federico da Montefeltro. C'è grande aspettativa per il turismo dopo un'estate di molto importante, un'estate molto bella, ma devo dire anche con un autunno che è ancora molto positivo. Abbiamo ancora molte strutture che sono al piene di turisti, anche nell'entroterra con gli eventi che si stanno realizzando, penso alle fiere, penso alle tante manifestazioni legate alla gastronomia, c'è molto interesse e le cose stanno andando molto bene. Tra l'altro noi siamo qui anche per presentare la Cioccovisciola di Pergola che è l'evento di dicembre e la mostra che verrà inaugurata sabato a Cagli su Federico da Montefeltro e Giovanni Santi. Il turismo e le fabbriche sembra uno simolo, uno fugge dalla fabbrica pur di quando è in vacanza, poi le fabbriche sono cambiate, è cambiato il turismo e sono cambiate anche le marche. Abbiamo scoperto e grazie alle marche l'abbiamo anche poi scritto che effettivamente c'è tra le tante esperienze che un turista può fare, anche quella di andare a vedere i processi che ci sono dentro, anche perché magari si annoia la persona a vedere sempre il mare, a vedere la spiaggia eccetera e si scopre che dietro a tante queste piccole realtà soprattutto con le marchigiane esiste un know-how, una capacità manuale, una sapienza artigianale che valeva la pena di segnalare e vediamo che i primi risultati sono che tanta gente va a vedere come funzionano le cose, come si formano le cose, come si rendono palpabili le cose che vedono nei negozi e quindi questo è stato molto interessante e valeva la pena di raccontarlo, tanto è piaciuto che hanno deciso, il Presidente ha deciso di farne la copertina di questo numero. Sono molto felice per questo invito, ho sempre sostenuto la regione nel mio percorso quando ho vinto il Miss Marche, ho ringraziato la regione e ho detto che è una tra le cose che ci tengo, proprio di portare la nostra regione sempre in alto, soprattutto in un momento così delicato che la nostra regione soffre a livello economico ma anche le alluvioni, quindi la nostra regione è meravigliosa e pena di risorsa, va raccontata e va sostenuta, quindi sono davvero molto onorata di partecipare a questo evento. Fanno rappresenta una vallata che sa parlare di paesaggio, di storia, di cultura, di enogastronomia, ha veramente quelle caratteristiche di una zona dove la qualità della vita è alta, dove si vive bene, dove molti turisti vengono per rilassare il proprio corpo, la propria mente ma anche per vivere dei momenti veramente di grande esperienze. Ed ora una segnalazione di servizio, domani giovedì 13 ottobre ci sarà un'interruzione di corrente elettrica che coinvolgerà il centro storico di Pesaro, nello specifico dalle 9 alle 16.30 mancherà la luce in buona parte di via Branca, oltre che in via Almerici, piazza Olivieri, via Sabatini, via Pedrotti e piazza del Monte. Lavori finalizzati a migliorie alle linee elettriche che comporteranno disagi a decine di attività commerciali che rimarranno senza elettricità. La nostra prima serata di questa sera è dedicata al partner meeting che si è tenuto qualche giorno fa a Milano Marittima delle due aziende pesaresi NTS Informatica e Ranocchi Software in concomitanza con un anniversario molto importante perché Ranocchi Software ha compiuto 20 anni di storia aziendale fondata dal compianto Giovanni Ranocchi. Vediamo il servizio. Di padre in figlia. Dalle compianto Giovanni ad Arianna Ranocchi continua la storia imprenditoriale di famiglia di Ranocchi Software, azienda pesarese che in questo 2022 ha compiuto 20 anni. Compleanno di una società che gode di ottima salute, come ricordano i 240 dipendenti e un fatturato cresciuto a 30 milioni di euro con una mission aziendale calata nella semplificazione dei processi dei clienti in un mondo sempre più digitale. A due anni dalla scomparsa del fondatore Giovanni Ranocchi, la figlia Arianna ha raccolto quella eredità imprenditoriale che ha raccontato ai microfoni di Rossini TV in occasione del partner meeting Ranocchi Software e NTS Informatica tenutosi nei giorni scorsi a Milano Marittima. Mi sento con una grande responsabilità verso tutto il gruppo, verso mio padre prima di tutte, che ha creato questa azienda nel 2002 quando è uscito da Team System. Una cosa che ci piace ricordare perché comunque quando è ripartito la sua esperienza era già di diversi trentennale nel mondo dell'informatica e quando è ripartito appunto nel marzo 2002 con il gruppo Ranocchi Ranocchi aveva le idee ben chiare, un progetto, un'idea, una visione basata su tre principi fondamentali, la correttezza, l'esperienza e la determinazione che sono poi gli elementi che abbiamo da vent'anni e che porteremo avanti nel futuro. Una storia importante, ricca a cui teniamo molto riportare appunto i fondamenti su cui è basata la nostra azienda e i principi di mio padre. La forza di un grande gruppo, la forza dell'unione perché crediamo realmente che l'unione fa la forza e avere questo rapporto molto diretto con i nostri partner, con i nostri rivenditori e mantenere lo stile della famiglia, di una grande famiglia. Restiamo in tema di aziende, saranno ben 45 quelle che da lunedì 17 ottobre parteciperanno alla ventunesima edizione del Carrer Day organizzato dall'Università di Urbino come tradizionale incontro fra il mondo della formazione accademica e quello del lavoro. Un evento che sarà arricchito da 24 presentazioni aziendali, 13 seminari delle scuole e 4 workshop in presenza. Una donna della provincia di Pesaro Urbino ha vinto 100.000 euro alla lotteria degli scontrini, aggiudicandosi uno dei premi nazionali che vengono messi in palio ogni settimana in abbinata agli scontrini per l'acquisto di generi alimentari. La fortunata signora, la cui identità è rimasta riservata, ha presentato il codice della lotteria ad una cassiera di un supermercato e, una volta notificata la vincita, si è presentata all'ufficio Monopoli Marche di Ancona per presentare la richiesta di riscossione del sostanzioso premio. Domenica 16 ottobre a Pesaro sarà stradomenica e nell'occasione la Biblioteca Oliveriana sarà aperta dalle 16 alle 19 per aprire alle visite la Sala dello Zodiaco, completamente rinnovata nella sua nuova veste di sala conferenze. Si potrà ammirare la preziosa collezione di avori e vetri cimiteriali del IV secolo d.C. e inoltre ci sarà l'ultima occasione per visitare la mostra Perticari per Pesaro, la città che cambia, allestita in occasione del duecentenario della morte di Giulio Perticari. A Villa Borromeo di Pesaro continua il ciclo di incontri diabete ieri, oggi, domani organizzato dall'Associazione Diabetici di Pesaro. Domani, giovedì 13 ottobre, il terzo appuntamento divulgativo su questa patologia sempre più diffusa. Terzo appuntamento con il ciclo di incontri diabete ieri, oggi, domani organizzati dall'Associazione Diabetici Pesaro a Villa Borromeo in via Vogadro. Dopo gli appuntamenti dedicati alla gestione del diabete 1 nell'adulto e al diabete in pediatria, giovedì 13 ottobre alle 18.30 si parlerà di diabete e patologie tiroidee, con Lucia Mingolla, endocrinologa di Fisioradi Medical Center e di terapia del diabete Melito 2, con relatore Alessandro Micillo, diabetologo dell'azienda ospedaliera Marche Nord. Ed ora parliamo di un amico, di un collaboratore di Rossini TV, stiamo parlando di Giorgio Ricci, che a Manfredonia è stato fra i marchigiani insigniti del premio adriatico per la sua attività in ambito sociale e di volontariato. C'è anche il peserese Giorgio Ricci, storico amico di Rossini TV, fra gli insigniti dell'edizione 2022 del premio adriatico Un mare che unisce. Premio che ogni anno viene conferito a personalità che si distinguono per opere di bene e comportamenti virtuosi nei settori di arte, cultura e volontariato. Un premio che viene assegnato a persone individuate in tutte le regioni che si affacciano sull'adriatico, sia sulla sponda italiana che su quella opposta. In questa edizione è stata la città pugliese di Manfredonia ad ospitare il premio itinerante ideato dal critico d'arte Massimo Pasqualone. Ricci è stato fra i marchigiani premiati per il suo impegno in ambito sociale e di volontariato. La cosa mi ha colpito particolarmente perché qualche dubbio c'era sull'organizzazione, da chi arrivava questo premio, eccetera. Però la grande scoperta è stata questa. Tutto nasce da una semplice idea di un professore universitario, il quale dice che è ora di cominciare a parlare un po' del buono e del bello. C'è tanta gente buona, c'è tanta gente che fa del bene. Cerchiamo di metterla in evidenza in modo che se ne troviamo tanti probabilmente l'imitazione ci porterà a non dover dare più il premio perché saranno più quelli che faranno del bene di quelli che non lo faranno. E questo mi ha colpito molto. E ho accettato volentieri. Non mi sono pentito di essere andato a Manfredonia perché ho trovato un ambiente stupendo, un ambiente fatto proprio di volontariato in tutti i sensi. E quindi direi che la purezza con la quale questa iniziativa è nata merita indubbiamente di essere non solo accolta ma di essere anche evidenziata per perseguire le scopi del presidente, dell'ideatore. Cioè speriamo che ci sia molta gente ad imitare chi fa del bene e chi fa del buono. Quindi arte e altruismo. E allora davvero complimenti al nostro Giorgio Ricci che tra l'altro è colui che cura le regie delle trasmissioni che vi mostriamo sul Vangelo ma anche tutte le dirette e le regie delle celebrazioni religiose che potete vedere su Rossini TV. Ed ora cambiamo argomento perché per il secondo anno torna il rally delle Marche. 250 motociclisti sono pronti a muoversi in una carovana per le strade della regione Marche all'insegna della promozione del nostro territorio. Un percorso di 450 chilometri che si snoda su strade secondarie per godere in sella una due ruote delle bellezze paesaggistiche marchigiane. A questo obiettivo la nuova edizione del rally delle Marche, un evento motociclistico turistico non competitivo che ha lo scopo di promuovere il mototurismo nella regione Marche. Un appuntamento che si sviluppa su tre giorni, 14, 15 e 16 ottobre e che gode anche per quest'anno del patrocinio della regione Marche, provincia di Pesaro Urbino e comune di Pesaro. Di grande supporto è anche il main sponsor di NG Motorsport, la concessionaria ufficiale della Yamaha e il grande impegno di Motoclub Rating Marche che ha organizzato l'evento. Non fatevi ingannare dal nome rally delle Marche perché non è un rally, non è una manifestazione competitiva ma è una manifestazione turistica che ha l'obiettivo di promuovere il nostro territorio. Quindi il venerdì 14 ottobre i partecipanti che provengono da tutta Italia sono circa 250 e arriveranno appunto al paddock che si trova a Pesaro, Piazza della Libertà, giù al mare alla Pala di Pomodoro e sabato mattina c'è la prima tappa che quindi la partenza sarà sempre dalla Pala di Pomodoro, sabato mattina 8 e mezza e si arriverà attraverso strade secondarie quindi asfaltate e bianche fino al Monte Nerone, fino a Piobbico dove poi effetteremo il pranzo e dopodiché nel pomeriggio si ritornerà sempre alla Pala di Pomodoro. Domenica invece il percorso scende verso sud, attraverso la dorsale fanno Pergola, vicino a Pergola ci fermeremo per il secondo pranzo e poi domenica e pomeriggio torneremo a Pesaro per concludere il percorso. Le moto, queste manifestazioni riguardano moto di grossa cilindrata anche bicilindriche quindi Yamaha o BMW, KTM e tante altre e poi ci saranno anche delle moto più piccole che sono delle monocilindriche e avremo dei percorsi con delle varianti per moto più piccole e appunto monocilindriche. Il secondo anno consecutivo dove siamo main sponsor del Rally delle Marche con Alessandro Tamburini e siamo molto felici di far parte e di collaborare ancora con lui. Abbiamo anche clienti, abbiamo parte del nostro staff che parteciperà, abbiamo messo a disposizione delle moto, delle tenere che comunque sono in linea con le tre giornate. E' un nuovo modo per scoprire e valorizzare il nostro territorio, noi siamo veramente un territorio che è fatto di scorci dal punto di vista paesaggistico stupendi, sicuramente l'itinerario che è stato individuato si focalizzerà appunto su queste strade stupende. Voglio fare i complimenti perché sono circa 250 i partecipanti, un numero veramente importante, sono poi persone che non è che sono pesaresi, in gran parte sono persone che vengono da tutta Italia quindi che sono venuti appositamente per partecipare a questo Rally delle Marche e quindi per noi è veramente una grandissima occasione di promozione del territorio. E concludiamo con una notizia di sport perché ricordiamo ai tifosi della VL che dopo la bella vittoria di sabato con Venezia la società Carpegna Prosciutto Basket ha riaperto la campagna abbonamenti alla stagione fino a venerdì 14 ottobre, un'opportunità che diventa ancora più invitante per gli associati a Confartigianato Ancona a Pesaro Urbino. L'associazione di categoria ha infatti stretto una nuova partnership a sostegno della società pesarese che prevede la possibilità per gli imprenditori di sottoscrivere un abbonamento con il 20% di sconto e di esporre i propri loghi aziendali nelle aree ospitali della Vitrifrigo Arena. E allora approfittate di questa occasione di sconto particolare per quanto riguarda l'abbonamento della VL e invece adesso andiamo a vedere la programmazione su Rossini TV questa sera come anticipato già alle 21.20 ci sarà il partner meeting NTS Ranocchi Software quello che è stato fatto e realizzato a Milano Marittima. Mentre domani vi aspetto con la nostra rassegna stampa in diretta alle 7.20, chiaramente canale 80 ma anche sul nostro sito, sulla nostra app e sulla nostra pagina Facebook. E da venerdì parte un nuovo programma dedicato agli adolescenti, dedicato alla generazione Z, si chiama Spazio Z e la puntata di venerdì sarà dedicata all'Istituto Alberghiero Santa Marta e lei è la nostra giovane conduttrice Letizia che insomma intervisterà i ragazzi e le ragazze della sua età. E poi vi ricordiamo anche che sabato 15 ottobre intorno alle 16.10 e domenica 16 ottobre alle ore 9 del mattino l'Arcidiocesi di Pesaro presenta questo convegno diocesano di una cosa sola, c'è bisogno. Siamo arrivati alla fine del nostro telegiornale, prima delle previsioni del tempo vi lasciamo in compagnia del primo degli otto trailer che riguardano gli spettacoli delle otto compagnie teatrali in concorso a questa nuova edizione del Festival GAD trailer che Rossini TV vi proporrà tutte le sere in anteprima assoluta e vi invitiamo quindi a votare quello che preferite potete votare il trailer che preferite sulla pagina Facebook Amici della Prosa Festival GAD e lì trovate tutti questi trailer, votate quello che vi piace di più e il vincitore tra questi trailer riceverà il premio Rossini TV che verrà assegnato durante la cerimonia conclusiva del festival, cioè il 30 ottobre. Grazie e buona serata. Sarò il governatore. No, di più! Di più! E come mai? Certo, perché sarai... Sarai un personaggio. Tadattu e Tadattu! Sì! Sì! E che nomi strani che hanno! Flori, Smart e Dirkania! Terza! Cosa resterà dei tuoi spaventi e la mia paura? Cosa ne sarà del tuo scacco matto? La... Isse prima noca di... No, no, Ius! No, no, Ius! Is, is! 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 Morir sabio rivermano... Medianoche era forino! Sì! Donch! Sì! Grazie a tutti.